In questa bella animazione virtuale vediamo come viene generata un'onda elettromagnetica da una carica oscillante, per esempio una carica positiva, come positive sono per convenzione le cariche oscillanti dentro le antenne metalliche. Sappiamo che in realtà sono elettroni, ma per convenzione la corrente elettrica oscillante su e giù è portata dalle cariche positive. Queste che si propagano nello spazio alla velocità della luce sono le linee del campo elettrico. Come si vede in particolare lungo la direzione di oscillazione non c'è emissione di onde elettromagnetiche, ma soprattutto in direzione trasversale al modo di oscillazione. Tuttavia nella maggior parte degli esercizi e dei problemi su questo argomento, cioè sulle onde elettromagnetiche, si immagina che l'antenna oscillante sia una sorgente isotropa, cioè che emette le radiazioni elettromagnetiche allo stesso modo in tutte le direzioni e non come in realtà è, le emette prevalentemente concentrate in direzione perpendicolare al modo oscillante delle cariche.